buona a tutti ragazzi io sono francetti e bentornati in questo nuovo video allora questa volta avevo detto che usciva un altro gioco ma come di cucina doveva aspettare ancora vabbè finchè non decido io però adesso siamo su ritorniamo dopo tanto tempo anni fa dove ho fatto un video su questo gioco facciamo un po schifo occupation si chiama occupation poi esiste è uscita anche un'altra versione di occupation la 2.5 che andremo a provare la prossima volta vediamo com'è questo occupation è un gioco in cui devi salvare la tua ragazza dagli zombie devi ammazzare i zombie sparare il solito gioco spara ammazza vabbè adesso andiamo a fare una una rivista una rivista sola di questo gioco di merda andiamo a fare una rivista di com'è se hai migliorato o peggiorato o quant'altro vabbè intanto si presenta così il menu opzioni volume manco c'è il volume non lo sento proprio la grafica la lascerei così game touchpad auto gate pc headset no io lascerei il touchpad però non so queste impostazioni di scritto vabbè la lingua italiana non c'è solo l'inglese portugese infatti c'è portugese cinese spagnolo inglese facciamo inglese che meglio possiamo ritornate perché qui qui mi è venuto proprio ancora facciamo un nuovo game e iniziamo a giocare aspetta sentite c'è io e questo tutto ci vediamo ma parli in russio veramente non è in inglese ma parli in russio è un gioco russo questo è allora con putin e allora si e i comandi non è si però non capisco cosa dici si però qui tutto dovrei spostare la telecamera perché qui non si vede un cazzo ho giù lo sposto se ne potete nevi questo lo sposto qua ok cos'è questo ah ok questo è davvero dove dice il coso il GPS si ok lui dice il GPS non vandava ma donna oltre la cosa la cosa questi comandi invertiti veramente ah quando è così è così veramente non si capisce se devo andare da questa parte area è davvero gapestra no ok ah ok ok che cosa si sticcio i rispottacodio 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 ma che c***o ti difende? wow io penso che non sono schifo come sono ma per difendere tutto così, per attaccare così una pistola, un battito, un cucchino, no? a botte più arte, chiuso beh, senza avere l'arte dal bastone finito come c***o fai ad uccidere quei due colmarcioni che sono lì davanti quindi dire e devo rifare tutta la carpa adesso non c'è nemmeno un modo per salvare, no? niente, proprio ah no? si salva vediamo dopo non c***o io dico come fai ad affrontare quelli se li prendi a pugni e non li fai un c***o? c***o c***o e soldi? eh non funzionano questo salti si ma uno allora deve scappare scusa cioè non puoi difenderti, non puoi sparare, non puoi fare un c***o non puoi prendere l'arma d'altra non lo so due cosi modelli che si muovono a mano poi ci hanno dimmiato di un calcio ah beh c'è la text pure posso entrare? no cos'è questo? un testo spiaccicata proprio ma guarda sopra questo sarebbe acqua questo funziona? eh c'è un bug qui oddio guarda guarda com'è fatto male il cammino c***o guarda è buggato guarda guarda lì non ci puoi nemmeno buttare dentro guarda c***o c***o io non so cosa ti dire qui è fatto proprio la c***o di cane è fatto la c***o di cane il cammino che si vede l'acqua non lo so senza texture oh è che c***o vuoi? chi sceglie io ho un po' di giocare così ma come c***o fare? io non so ma qui c'è una lagre che cos'è questa? voglio scoprire cosa è? c***o cosa vuol dire più che altro oddio appena più ti scappi scappi dove è andata? non ti ammazzi va beh pazienza ti spavola cos'è questo? cos'è questo? non puoi entrare non puoi fare un cazzo sono dei modelli di casa c'è un senso di distenza modelli di merda cos'è questo? io non ho qui per fare niente ma dobbiamo forse affrontare quei pezzi di masca fatti male qui pure ci sono tutti i segni che non si capisce proprio cosa devi fare eccolo eccolo eccoli li madonna che cazzo devo andare? devo andare di lì? ti rendi conto che non posso fare un cazzo? devo scappare perché non ho un'arma dove cazzo ne trovo gli altri qui? guarda pieno aspetta qui c'è uno da oddio 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 no 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 ahahah ma qui è pieno ma come fai ad affrontarmi tutti qui uh una litraietta nooo coglione oh ecco qua ecco qua ecco qua ma questo qua ti dà una vita questo qua è una cravatta vestita bene poi puoi fare un cazzo dell'acqua ti ha dato che cazzo è che oddio fossili po+, po, po, po po, po po, po de Ma spagati! Questo competto! Eh! E ora cosa devo fare? Ok? Ah! Devo andare in quel punto! Opa! Nemmeno corre queste cose! Tutti i zombi qua! Come cammino? Defensa! Ah! I difensori sono arrivati! Sono arrivati quelli che combattono! Con la pistola che cazzo si cede nemmeno il tempo di pari l'auto! Troppo troppo amato! Eh si! Ma troppo amato! I soldi! Venti noi! Qui dove va? Una basta di qui! Oddio! Questo è della terra! Che cazzo cazzo! Ho finito le minuzioni! No! No! Vaffanculo! Ho finito di giocare! Eh si! Non ho perso niente! Meno male! A meno questo! Bah! C'è qualche bug! C'è qualche bug che è proprio schifoso! Un po' pezzo lo stesso! Però! Mi seguite? Mi seguite? Ah! Dove andare di là! C'è la banca! Ok! Ma non c'è un'arma più potente? Un po' pezzo! Una bomba! Un po' pezzo! Un po' pezzo! E meno il tempo! Questa! E' un po' pezzo! E' un po' pezzo! E' un po' pezzo! E' un po' pezzo! Ma cosa? A cazzo? Madonna! A cazzo io sarei morto! Non si sa da che cosa? Sua morte! Tutto più sennoso! Cosa bisogna fare? Comunque, riproviamo, poi concludo, perché voglio solo rivedere questo tanti anni fa ci avevo giocato, hanno aggiunto solo delle due cazzate, perché hanno aggiunto il kit di cose, il kit medico, no, e questi già iniziano a sparare, la musica è cambiata, la mira fa sì, questo quando finisco le munizie, lui dice, oddio, ci è contatto, è importante, guardiamci una bomba, oh i soldi li prendo credo che prendo tutto perchè non si sa magari si sa che questo... ah non va a prendere ne ho troppi ok diventa che nemmeno si vede l'acqua oddio porca da dietro oh proprio ti prendo dal culo dietro sti rocci di merda vabbè 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 io non so se colf di uc di cosa questa sia una merda sicuramente una merda però cioè per liberare la tua ragazza devi fare proprio questo devi uccidere i 50.000 zombie poi dopo ma qui non si sa dove dipendere mi sono già stufato minchia non sto che ci sono anche troppo qua finito non c'è più nessuno l'ultimo avratti boh ah qui c'è pure il muro invisibile cioè guarda il gioco veramente qui c'è il mare non puoi andare non puoi notare niente c'è il muro invisibile oh allora io non posso venire l'intelligenza artificiale non li farà nemmeno l'attività beh meglio questo sono l'unico che posso fare vabbè se tutto qui non c'è più un cazzo io concludo perché non so ovviamente la sprecata che è tutta la vera voglia non c'è più niente non c'è più niente tutto ci si spegna non sei massimo deluso cioè amazzi 4 persone 4 zombie già finito basta non fai più niente cos'è questo Matt Tutto scritto in russo, ma che cazzo chi ci capisce? Bah... Vabbè concludo qui perché non c'è più niente cazzo da fare 5 zombie è ammazzato finito il gioco quindi... cioè non dice cosa devi fare la prossima mostra dopo fai il ciclo dove devi andare, no niente proprio niente di niente la torcia nemmeno funziona più Vabbè Mio parere Parere che fa schifo è marcio proprio lezzo fa schifo quindi il mal di mare solo a vederlo solo a provare 5 minuti fa e di questo qui ho già vomitato tutto anche la cena e il pranzo fa schifo quindi vi aspettavo di più l'occupation farà sempre schifo l'ho provato anni fa lo riprovo fa ancora cagare sempre la stessa cosa l'occupation io voglio vedere la versione 2.5 quanto farà ancora più cagare di questo vabbè raga io concludo qui il video spero che vi sia piaciuta se ti mi piace iscrivetevi e ci becchiamo al prossimo a 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